Credo che saranno a lutto tutti i membri dell'associazione Amici delle Bambole, immagino che staranno soffrendo. È una vicenda che sta riempiendo le pagine dei giornali e ci sta anche stancando sinceramente. Almeno la mia sensazione è questa, trovare paginate di giornali su questa piedigrotta, su questo circo equestre 5 stelle che è stato aperto a Roma. Sta diventando francamente insopportabile. La cosa davvero amara di questa vicenda è un'altra, che stiamo coprendo di ridicolo la capitale d'Italia e che agli occhi del mondo, dopo i disastri del passato e dopo l'attesa di un governo serio, rigoroso, di rinnovamento, di svolta, ma anche di grande concretezza. Ci si ritrova questa baldoria incredibile. Ora al di là dell'amarezza e del disagio che credo proviamo tutti quanti perché si danneggia l'immagine della capitale e quindi dell'Italia. Al di là del fatto che si preparano altre decisioni gravi per il futuro di Roma e dell'Italia, il rifiuto delle Olimpiadi, le Olimpiadi come tutti i grandi eventi possono essere un disastro finanziario o una grande occasione di sviluppo e di promozione, dipende da come si gestiscono. Ma non c'è dubbio che sono una grande opportunità che Roma si prepara a perdere e l'Italia con Roma. Prendiamo però al di là di questo anche quello che di positivo può venire a questa vicenda. e i fatti positivi sono questi che si è svelato l'arcano dei 5 stelle. In termini più semplici sono usciti al naturale. Sono usciti al naturale. E tutte le idiozie che hanno coltivato i 5 stelle si rivelano per idiozie. Questo movimento, come tutti i movimenti fondati sui grandi entusiasmi collettivi o sulle grandi passioni o sulle grandi reazioni emotive, ha portato sulla scena personaggi di valore ma anche personaggi assolutamente improbabili, miracolati. Gente che non sa fare lo con il bicchiere, come dicevano, che si ritrovano ad avere ruoli nazionali, essendo miracolati. Per molti dei 5 stelle è valso, come dire, da parte degli osservatori lo stato d'animo degli innamorati. Gli psicologi, gli psicanalisti, quando parlano di innamoramento parlano di anestesia percettiva. Che significa? Che quando sei nella condizione di innamoramento non vedi più niente. C'è una nuvola che ti avvolge, per cui anche le cose che alle persone normali appaiono per quello che sono tu non le vedi nemmeno. Quando sei nella fase di anestesia percettiva, cioè di innamoramento, ecco tu hai magari davanti a te una scorfana e ti pare una principessa. Magari non vedi neanche i pelacci che ha, i baffi, le varici. Questo vale ovviamente per gli uomini, non vorrei che l'associazione Amici delle Bambole mi facesse un'altra accusa di sessismo. Vale a ruoli invertiti anche per l'anestesia percettiva che può toccare una donna, che magari ha di fronte un uomo che è un perfetto imbecille e che le appare un personaggio. Bene, si sta diradando questa condizione di anestesia percettiva e cominciamo a vedere la realtà per quella che è. Tutto qui finisce l'innamoramento. Allora questa vicenda porta alla luce che cosa? Primo, l'assoluta mancanza di coerenza da parte di questi signori. Si erano impegnati prima delle elezioni a Roma a rendere pubblico l'elenco degli assessori. Non lo hanno fatto, hanno mancato alla parola e all'impegno assunto. Lo dico perché una delle giustificazioni che stanno trovando in queste ore il nostro amato conterraneo Luigi Di Maio e il nuovo dibattista, gli dedicheremo qualche pensiero affettuoso anche a lui, è che sono oggetto ai 5 stelle di un attacco dei poteri forti. Gesù, Giuseppe e Maria, i poteri forti. Tutto quello che è avvenuto in questi due mesi lo avete deciso voi. Lo avete deciso voi. Avete nominato il primo assessore al bilancio, voi si è dimesso. Il secondo assessore al bilancio, voi si è dimesso. Il capo di gabbiretto, l'hanno scelto voi, si è dimesso. L'assessore all'ambiente, Dio l'abbia in gloria, tale Muraro. L'avete scelta voi. Quindi l'attacco di chi? Vi siete autoattaccati, diciamo. Secondo, il rinnovamento. Si rivela che sono portatori non di rinnovamento, ma delle chiacchiere sul rinnovamento. Cioè voi vi presentate come i rinnovatori e riciclate tutto il ceto amministrativo a Roma che stava con Alemanno. Niente di me. E scegliete come assessore all'ambiente una signora rispettabilissima, che è stata però consulente dell'AMA per 10-12 anni. Cioè pienamente corresponsabile dei disastri sui rifiuti a Roma. L'avete scelta voi. E la state difendendo. Poteri fuori. Quali poteri fuori? Rapporto con la giustizia. Vi ricordate quando facevano i balletti in mezzo alle strade? Quando sono andati con relativi panierini a fare il picnic al Campidoglio quando si è insediata la Raggi? Onestà, onestà, giustizia. Vi ricordate quante persone sono state massacrate, offese, ingiuriate per un avviso di garanzia? Abbiamo scoperto che in relazione agli avvisi di garanzia vi è un'analisi differenziata. Quelli degli altri sono condanni a morte. Quelli propri vanno verificati nel merito. Avete visto come è stata maestrina puntigliosa il sindaco di Roma? Diceva che è indagata la Muraro, però bisogna prima leggere le carte. E per gli altri le carte non avevi voglia di leggere le carte. E quando saltavate nelle piazze e riempivate di baffa tutto il mondo intero, allora non le dovete leggere le carte. Dunque una idea del rapporto fra giustizia e istituzioni, come dire, basculare, oscillante, a seconda degli interessati. Ma poi soprattutto credo che emerga un doppio dato. I 5 Stelle non sono ancora nati e già sono lacerati al loro interno da 3.000 correnti, come ho già detto. 5 Stelle e 50 correnti. Perché hanno perso un mese per fare la giunta a Roma? E che giunta? Perché litigavano fra di loro. La giunta di Roma è sostenuta da un solo partito, i 5 Stelle. Movimento, non partito. Però le correnti sono come quelle dei partiti. Ci hanno messo un mese per mettersi d'accordo e produrre questo disastro. Quindi correnti, peggio che andare di notte. E soprattutto, ecco questo è il dato finale che possiamo ricavare da questa vicenda di Roma. Una valutazione compiuta sulla qualità, sulla competenza dei dirigenti di questo grande movimento. Abbiamo visto emergere un trio. Già li avevamo visti nella vicenda di Quarto, li abbiamo visti appollaiati sui trespoli il Di Battista, il Luigino Di Maio e il Fico. Ecco, oggi si rivelano all'Italia, come dire, nelle vesti proprie. Luigino Di Maio e il Chierichetto. Fico e il Moscio, ovviamente. E l'emergente di Battista detto Dibba, il Gallo Cedrone. Ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia, la sua parte in commedia. Non possiamo rivolgere un saluto al Gallo Cedrone perché è venuto nel suo tour da centauro, anche in costiera amalfitana. Ovviamente è chiaro che questo ha preso a pretesto il referendum per andare a farsi i bagni, andare in giro. Si è presentato qui come un centauro, si è tolto il casco, mi dicono, aveva la bandana. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. L'Italia dovrebbe essere diretta da questi signori. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe, che quando si sono candidati, con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bocciati tutti quanti. Fico, Campania, vi ricordate? Luigino, Appomigliaro, 56 voti, credo. E di Battista, dice che se non l'ho letto su un giornale, si era candidato pure a una municipalità di Roma, bocciato pure lui. Quindi questi sono tre miracolati che hanno sfruttato l'onda grillina. Ma se fosse stato per loro. Allora la cosa davvero drammatica è immaginare che questi soggetti possano avere in mano l'Italia. L'Italia. Questo è quello che dovrebbero pensare i nostri concittadini sulla base di quello che stanno vedendo a Roma. finalmente il velo si è sollevato, la nebbia si è diradata, la condizione di anestesia percettiva si è esaurita e sono usciti al naturale e li vediamo così come sono. Allora, e finisco, Luigino Di Maio ha chiesto perdono, ha detto che non ha capito, gli hanno mandato il messaggino, ma non è stato in grado di leggerlo e ha detto perdonatemi, scusatemi, e vi pare che nell'anno del giubileo della misericordia noi vogliamo privare Luigino del perdono. E' certo che lo perdoniamo, non lo tendremo più in punizione, a condizione che faccia il bravo. Gli daremo pure il panierino con la Nutella, con la briochina, a condizione che non faccia più il furbastro, che si sbottoni anche la giacca, perché per essere uomini di Stato non basta bottonarsi la giacca a due bottoni, questa cosa andava negli anni 50, adesso no, puoi stare sciolto, puoi stare sciolto, e a condizione che la finiscano con questa ipocrisia insopportabile. Questi tre si odiano, si baciano, si abbracciano, sono falsi come Giuda. Se vedete qualche foto presa a tradimento, vedete che si guardano come ognuno vorrebbe accortellare alla schiena l'altro. Falsi come Giuda. Però in pubblico, baci e abbracci, che vi possano ammazzare tutti quanti. Allora, finisco con una considerazione ancora più amara. Noi possiamo contemplare tutti i disastri 5 Stelle ampiamente prevedibili, ma questo non assolve e non deve assolvere le altre forze politiche per le prove di inconcludenza che hanno dato e che a volte continuano a dare. Perché rimango convinto che la gran parte di quelli che votano 5 Stelle sicuramente non votano per la passione per i Galli Cedroni o i Chierichetti o i Mosci. votano per il disgusto verso il resto del mondo politico perché non ne possono più di quelli che parlano in politica e quando hanno finito di parlare non hai capito che diavolo hanno detto. Ecco, le altre forze politiche dovrebbero da questa lezione capire che devono rimparare a conquistare il rispetto della gente per evitare disastri all'Italia.